Il presidente del Taranto, Massimo Giove, ha ribadito la piena fiducia in Ezio Lino Capuano, confermato come allenatore nei prossimi due anni. Giove ha sottolineato che non ci sono mai stati dubbi sulla conferma del tecnico, considerato uno dei più preparati della categoria. L'obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva e giovane anche per l'anno prossimo. Durante un recente incontro in Città Vecchia, Giove e Capuano hanno ribadito il loro impegno nel progetto triennale che mira un salto di categoria. Capuano, noto per la sua preparazione e carisma, è stato fondamentale quest'anno per la squadra e continuerà a guidarla anche nel prossimo futuro. Sul fronte del mercato il Taranto non darà priorità agli under, ma si concentrerà sui giocatori in scadenza e su quelli che necessitano di garanzie per il futuro. La squadra giocherà allo stadio Giacovone, come confermato dal ministro dello sport Andrea Bodi. Il Taranto punta una stigione ambiziosa con la volontà di consolidare e migliorare la propria posizione nel campionato, sostenuto dalla visione condivisa tra presidente e allenatore.